Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin con marmellata. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, zucchero, latte, lievito per dolci, vanillina, marmellata e zucchero a velo. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Prendiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo del boccale. Versiamo le uova. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 6 minuti a velocità 3. Adesso andremo ad aggiungere la farina. il latte, il lievito per dolci e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 3. Il composto è pronto. Adesso andremo a comporre i muffin. iniziamo versando l'impasto, il composto, nei pirottini. Adesso mettiamo un cucchiaino di marmellata. in ogni muffin. Adesso completiamo con il resto del composto. adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 25 minuti circa. i muffin sono cotti. Lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli. Muffin alla marmellata. grazie e alla prossima ricetta. Muffin alla marmellata. Muffin alla marmellata. Muffin alla marmellata. Muffin alla marmellata. Muffin alla marmellata.